9 arresti sulle cosche Pelle e Nirta nel Torinese 9 misure cautelari sono state eseguite nel Torinese dai Carabinieri del Rosso nell'ambito di un'inchiesta sulla presenza dell'Andrangheta nel nord-ovest. Il procedimento è aperto per associazione mafiosa, concorso esterno, riciclaggio, estorsione, ricettazione e armi. Le indagini condotte fra il 2014 e il 2021 dagli investigatori del Rosso insieme ai colleghi della stazione di Leini si sono concentrati su un'articolazione territoriale delle indrine Pelle e Nirta originari di San Luca, operativa a Torino e nelle zone di Brandizzo. Controlli dei Carabinieri nei comuni dell'area montana del Reventino, denunce e sanzioni Durante la Settimana Santa i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio in tutti i 14 comuni della giurisdizione. I controlli, finalizzati soprattutto a prevenire gli incidenti stradali e la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani dell'area montana del Reventino e della Presila Catanzarese, hanno consentito di sequestrare modesti quantitativi di sostanze stupefacenti, eroina e hashish, nonché farmaci contenenti duloxetina, elencati tra quelli considerati ad effetto stupefacente, e di cui è quindi vetata la detenzione in quanto utilizzabili solo da personale sanitario e in determinate circostanze di necessità e urgenza. Cinque in totale le persone segnalate alla Prefettura di Catanzaro, quali consumatori di droghe durante i controlli militari dell'arma, hanno dunque deferito due uomini che, in evidente stato di alterazione dovuto all'utilizzo di stupefacenti, si sono rifiutati di sottoporsi ai test speditivi in grado di rilevare la presenza di principio attivo nell'organismo. Stessi è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo condotto. Tre persone sono state invece segnalate per avere illecitamente portato con sé armi bianche, senza che ve ne fossero i presupposti. Diversi coltelli a serramanico rinvenuti da militari nella disponibilità degli interessati sono stati sequestrati. Numerosi sono stati i veicoli e le persone sottoposte a controllo dai militari, che hanno contestato 10 infrazioni alle norme del Codice della Strada, sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 2.700 euro. Drangheta, processo su appalti ANAS e RFI, 14 assoluzioni a Reggio Calabria. Una pioggia di assoluzioni con formula ampia è per non avere commesso il fatto, è la conclusione di primo grado cui ha approdato il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale nel processo Camaleonte, indagine coordinata dalla procura distrettuale ed eseguita nel 2020 dai carabinieri di Reggio Calabria sull'infiltrazione dell'Andrangheta in alcuni lavori appaltati dall'ANAS nella frazione Gallico a nord della città e sulla realizzazione della stazione ferroviaria di Reggio Pentimele. Il Tribunale ha disposto l'assoluzione di Michelangelo De Angelis, Nilo Morfu e Giuseppe Morfu, per non aver commesso il fatto. Il collegio ha inoltre assolto Giovanni Fiordalisso, Domenico Musolino, Maurizio Raso, Palmiero Cecala, Quattrocchi, Luigi Ferro, Diana Capretto, Ornella Capretto, Felice Cappelluccio, Vincenzo De Falco, Angelo Giuseppe Marturano, Antonino Cilona, perché il fatto non sussiste. Gli imputati rispondevano a vario titolo di associazione mafiosa, associazioni a delinquere con aggravanti delle agevolazioni mafiose, finalizzate a commettere delitti di corruzione, abuso d'ufficio e truffa. In relazione all'appalto ANAS per la realizzazione del sovrappasso autostradale di Gallico, decisiva è stata l'eccezione di inutilizzabilità del materiale probatorio sollevata dal Nutrito Collegio di Difesa, composto dai penalisti Marco Gemelli, Antonio Managò, Antonino Curatola, Francesco Calabrese, Giacomo Iaria, Gaetano Vizzarri e Vincenzo Laganà, Caterina Varvaglione, Giuseppe Orecchio, Luigi Leonetti ed Edmondo Carrino. La mezzia, processo Crisalide, annullata la condanna di Francesca De Biase. La prima sezione della Corte di Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza nel giudizio di rinvio nell'ambito del processo Crisalide dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 febbraio 2023, aveva demandato alla Corte di Appello la celebrazione di un nuovo giudizio nei confronti di Francesca Antonia De Biase. Con la sentenza di oggi la Corte ha integralmente accolto il ricorso dell'avvocato Aldo Ferraro, difensore di fiducia della donna, annullando la condanna che era stata pronunciata nei confronti della sua assistita per violazione del principio del nebis in idem. Il difensore aveva infatti eccepito, sin dall'arresto della De Biase avvenuto nel lontano 2017, l'esistenza di un vizio procedurale che impediva di giudicare nuovamente la De Biase per i reati per i quali già pendeva un procedimento dinanzi al Tribunale di La Mesia Terme. Tale eccezione fu rigettata dal Tribunale collegiale di La Mesia Terme che all'esito del giudizio di primo grado condannò Francesca Antonia De Biase a tre anni e sei mesi di reclusione, come pure fu rigettata dalla Corte di Appello di Catanzaro che confermò la condanna di primo grado. L'avvocato Ferraro ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che con la sentenza dell'8 febbraio 2023 annullò la condanna nei confronti della sua assistita, accogliendo l'eccezione sulla dedotta violazione del Nebis in idem. All'esito dell'udienza di oggi, la Corte di Appello si è quindi uniformata alla decisione della Cassazione stabilendo che di fatto Francesca Antonia De Biase non avrebbe dovuto neppure essere arrestata come si da subito sostenuto dal suo difensore, rendendo pertanto ingiusta la detenzione per circa due anni che la stessa ha patito in regime di custodia cautelare. Quasi un chilo di cocaina in casa ha arrestato 49enne a Cosenza. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cosenza dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 850 grammi di cocaina suddivisa in più involucri in plastica termosaldata. L'arresto è scaturito da una perquisizione effettuata dai militari della stazione di Cosenza Centro. Al 49enne viene contestato il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti finalizzata allo spazio. Dall'esito delle analisi effettuate nel laboratorio scientifico dell'arma di Vibo Valencia è emerso che dal quantitativo di droga sequestrato avrebbero potuto essere ricavate 4.750 dosi di cocaina. L'arrestato su disposizione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Cosenza è stato condotto in carcere. Primi incendi in Calabria, in fiamme, vegetazione, fra Conflenti e Martirano Prime segnalazioni di incendi boschivi in Calabria, un'ampia aria nel territorio del Savuto tra i comuni di Conflenti e Martirano è stata interessata dalle fiamme. Il fumo visibile anche a distanza ha attirato l'attenzione dei cittadini. Intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio. Con la stagione primaverile appena iniziata, il problema degli incendi boschivi quest'anno pare si sia presentato in anticipo, con un primo caso che si spera non si ripresenti. La Regione, con la strategia denominata Toleranza Zero, da alcuni anni si sta investendo risorse per la campagna antincendi. Proprio in questi giorni, nel piazzale San Francesco di Paola della cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha consegnato formalmente nuovi mezzi pick-up 4x4 antincendio, che la protezione civile ha assegnato attraverso un bando alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte all'albo regionale, in un'ottica di rafforzamento delle attività di contrasto agli incendi nel territorio calabrese. Inoltre, si è tenuta una riunione plenaria dei soggetti attuatori del piano antincendio boschivo AIB 2024. Istituto Salesiano di Soverato a rischio chiusura, a Lecci, per decenni una vera e propria eccellenza nel sistema scolastico calabrese. Sarebbe una gravissima perdita, occorre mettere in campo tutte le soluzioni possibili. Destano molta preoccupazione le notizie relative al futuro delle scuole elementari e medie del liceo classico dell'Istituto Salesiano di Soverato. In questi ultimi giorni ho avuto modo di ascoltare tanti genitori di studenti allarmati dal rischio di chiusura della scuola. Una scuola storica che muoveva i primi passi già negli anni 20 e che per decenni ha rappresentato una vera e propria eccellenza all'interno del sistema scolastico calabrese, di cui sono illustri ex allievi alcuni tra i più meritevoli professionisti della nostra regione. Sarebbe una gravissima perdita che Soverato e l'intero comprensorio non possono assolutamente permettersi. Credo sia necessario mettere in campo tutte le risorse possibili per garantire innanzitutto la conclusione del ciclo di studi attualmente in corso e trovare una soluzione definitiva per il mantenimento in attività della scuola e la tutela di tanti posti di lavoro degli insegnanti e del personale. Mi sono confrontato più volte al riguardo con il sindaco di Soverato Daniele Vacca, che non appena messo a conoscenza della problematica qualche giorno fa, si è subito messo in moto per trovare soluzioni alternative efficaci. Come Daniele, anche io da sindaco e il discorso vale per altre amministrazioni prima di noi, ho sempre sostenuto con atti concreti l'Istituto Salesiano, consapevole delle difficoltà economiche, ma anche conscio della grande valenza culturale di un'istruzione a cui tutta la comunità di Soverato è fortemente legata. Sono sicuro che l'attenzione data negli anni da parte del Comune sarà ricambiata dall'Ispettoria Salesiana, con il massimo impegno nel trovare una soluzione alle varie problematiche, attraverso anche il prezioso lavoro del direttore Don Mimmo Madonna. Da parte mia rimango a completa disposizione per tutto ciò che possa essere in mio potere, al fine di scongiurare la chiusura di un istituto che in più di 120 anni di storia ha rappresentato un faro culturale per intere generazioni di calabresi. Aggressioni all'ASP di Vibbo, ma Moliti scrive al Ministro della Salute e chiede alla Presidente Straface una seduta ad hoc della Commissione Sanità di Palazzo Campanella. Ho l'impressione, ma ormai sta diventando sempre di più certezza, che a Vibbo Valencia ogni spinta propositiva, anche quelle oggettivamente urgenti e improcrastinabili, si infranga inesorabilmente contro un muro, tanto invalicabile quanto invisibile. In questo senso ritengo sia lecito, oltre che doveroso, chiedersi se l'ASP di Vibbo Valencia sia da considerarsi sotto il controllo dello Stato o invece ubbidisca ad altre ignote logiche. Ormai le aggressioni agli operatori sanitari si ripetono e il rischio è il peggiore che di fronte ad episodi gravi ed inqualificabili si registra una preoccupante assuefazione. Considero assolutamente inaccettabile questa situazione e per tale ragione ho presentato un'apposita denuncia politica all'attenzione del Signor Ministro della Salute, al Presidente della Regione e al Signor Prefetto di Vibbo. Ho richiesto inoltre alla Presidente della Commissione Sanità Calabria, Pasqualina Straface, di voler calendarizzare al più presto un'apposita seduta della Terza Commissione per affrontare la presenza ed insieme a tutti i soggetti coinvolti nel Governo della Sanità Vibbonese la grave situazione dell'ASP di Vibbo Valencia. È del tutto evidente che le continue aggressioni rappresentano eventi sentinella e quindi sintomo di forte criticità dell'organizzazione sanitaria dell'azienda. Solo andando fino in fondo, se si riuscirà ad individuare la causa radice, consentendo così a chi possiede ruoli di responsabilità di assumere i più urgenti ed appropriati provvedimenti. Concessioni balneari a soverato, ecco la verità secondo Azzurra Ranieri. Credo nella giustizia, un faro che seppur lento alla fine trova sempre la sua via. Non voglio ne posso sovvertire ciò che spetta solo al Tribunale Amministrativo Regionale discutere prima di ogni altra cosa. Ho scelto di rivolgermi alla giustizia amministrativa del Tar perché credo che sia giunto il momento di avviare un'azione per la giustizia e la verità. Non sono come il sindaco di Soverato che sfida il Tar emanando deliberazioni prima che le precedenti siano discusse. Sono semplicemente un cittadino che crede nella legge, rispetta severamente le istituzioni e una pazienza infinita. Oggi, il 26 marzo 2024, è giunto il momento di rompere il silenzio. Dopo quattro mesi di totale isolamento mediatico per scelta e soprattutto dopo quasi un decennio di abusi e ingiustizie. Lo faccio in memoria di mio padre e lo faccio per la mia famiglia che subisce l'onta di essere buttata sui giornali per una scelta pesante, quella di mettersi contro tanti senza averlo scelto, già che l'unico colpevole altro non è che il comune di Soverato nella persona dei due ultimi sindaci, dei suoi assessori al demanio e dell'ufficio tecnico. È una vergogna. Chi mi legge non ricorda la sofferenza e le manifestazioni di mio padre? L'umiliazione di quell'uomo che ha portato la nautica di Soverato per tutti i laghi e mari del mondo. Mio padre è stato il grande onore della città di Soverato, che è conosciuta in tutto il mondo per la nautica di Antonio Ranieri, il re dei motoscafi. Ditemi chi non ha memoria tra voi delle manifestazioni pubbliche di mio padre. Ditemi se uno solo di voi non sa quanto abbia lottato nella sua vita, quanto abbia sofferto e quanto la sua genialità gli sia costata cara. I primi della classe portano con sé una grande sofferenza e la solitudine e la lotta continua sono così intelligenti da essere isolati e condannati per la loro schiettezza. Mio padre ha lottato fino alla fine, era gravemente malato quando quel sindaco, bravo e bello, e quell'assessore oggi sindaco, lo umiliavano e se ne prendevano gioco. Fai così, Toto. Mio padre aveva capito con estrema chiarezza tutto, ha tentato ogni strada pur di non importare la sua città in tribunale. E' stato abusato del nostro essere persone berbene. Ci hanno negato anno dopo anno una piccola concessione per fare il nostro lavoro dove ci siamo proprietari pari agli altri e per cosa? Per favorire cosa? In cambio soprattutto di cosa? Ora il sindaco fa il santo. Dice di tutelare i balneari. Non è vero. I balneari sarebbero stati tutelati, sì dai bandi, per tempo come previsti per legge, ma sarebbero stati tutelati se non li avesse messi a rischio per favorire un solo concessionario. Qual è la merce di scambio? Io non posso saperlo, ma una cosa è certa. Non sono io ad essere contro i balneari. In fondo sono anche io una balneare. A cui è negato un diritto, dice Azzurra Ranieri. Io li ho rispettati tutti i concessionari fino all'ultimo giorno. Per quattro anni ho accettato un diniego senza impugnare le proroghe. Il 31 dicembre 2023 per me si sarebbe chiuso il sipario. Era l'ultima data utile. Non potevo altro che ricorrere al TAR per impedire che anche questo abuso rimanesse impunito. E per noi non ci sarebbe più stata possibilità di lavorare. Da quattro mesi leggiamo articoletti da regime che buttano me, le nostre aziende e gli avvocati tra le righe ignoranti. Per attirare l'attenzione una volta si usa il mio nome come consigliere di minoranza della città di Soverato. Una volta si butta in prima pagina le nostre aziende, poi i nostri avvocati. Mai nessuno però abbia raccontato la verità che il TAR, dinanzi a sé, con una perizia di un danno subito, è ben venti allegati di atti gremiti di tutta la verità. La mia persona è stata messa sulla bocca di tutti, con leggerezza, con un impianto accusatorio pericoloso. Siamo stati presentati ai concessionari come coloro che vogliono togliere il lavoro. È stata messa a rischio la mia incolumità e quella della mia famiglia. La nostra azienda dà lavoro a quasi 50 famiglie. Diverse le imprese a noi collegate da contratti di collaborazione. Importante la nostra posizione di soggetti a rischio in una terra problematica. Tutti noi siamo stati battuti in posto di chi ha preso per un attacco di collera potrebbe lasciarci secchi per strada. E chi lo ha fatto? Il sindaco di Soverato, l'assessore al demanio con un post degno di censura. E quel farfallone del presidente del consiglio non è stato zitto neanche quando il silenzio gli avrebbe persino fatto guadagnare punti. Un presidente del consiglio titolare di ben due concessioni che si permette di rilasciare dichiarazioni al limite della decenza. Ma si sa, Soverato spesso premia questo genere di soggetti, subito pronti a saltare sul carro dei vincenti, non disdegnando di calpestare anche qualche ferito. Non posso tacere riguardo all'assessore al demanio che con un post indegno ha cercato di screditare la nostra causa. E al presidente del consiglio, il quale anziché proteggere gli interessi dei cittadini, giacché questa causa sta pesando già sulle casse della città, si è schierato da parte degli abusatori. Entrambi hanno contribuito al clima di intimidazione e persecuzione che ha circondato la nostra famiglia e le nostre imprese. Ma non ci lasceremo intimidire. Continueremo la nostra lotta per la verità e la giustizia. E se necessario li porteremo davanti alla legge per rispondere delle loro azioni. Evito di commentare le costituzioni delle parti, giacché non è il mio momento, ma è quello del TAR. Ma è importantissimo chiarire che prima di domani vi è già stata un'ordinanza del TAR, molto chiara sull'egittimità a costituirci, danno causato e incompetenze dell'Aggiunta Comunale e della città di Soverato. Questa ordinanza ha riconosciuto l'importanza e la fondatezza del ricorso motivato, con ben 20 allegati e un'importante perizia del danno cagionatoci dal Comune di Soverato per tantissimi anni. Abbiamo posto noi un ricorso per motivi aggiunti. Il TAR non ha il rinviato, se non per ragioni procedurali. Ne ha rigettato alcuna richiesta fondamentale. Il TAR li discuterà probabilmente domani e discuterà cautelare e motivi aggiunti il 1704 e lo farà nel merito quel giorno. Purtroppo, sebbene la gestione dei LIDI abbia certo la sua valenza, nessuno si è ricordato di parlare di tre aziende, le nostre o meglio quelle del mio defunto papà, che hanno subito l'oltraggio di essere privati di uno sbocco a mare. Ma nessuno si ricorda che noi produciamo imbarcazioni e per le stesse necessarie il mare? Abbiamo citato in giudizio il Comune di Soverato, che nasconde un abuso dietro alla direttiva Bolkestein e si fa scudo dei balneari, sebbene abbia causato un danno perdurante e quantificato al settembre 2023 per circa 14 milioni di euro in linea prudenziale. Sapete perché il Comune è stato citato? Proprio perché usava le proroghe per negare un diritto. Dice ancora Azzurra Ranieri, abbiamo atteso l'ultimo giorno utile, ovvero la scadenza europea al 31 dicembre, proprio per non cagionare danno a nessuno. Avremmo potuto far saltare il banco da ben quattro anni, ma non l'abbiamo fatto. Mio padre è andato via con un grande magone e allora, se dobbiamo veramente rompere il silenzio, facciamolo con la verità. Cari balneari di Soverato, al posto mio cosa avreste fatto? Cosa avreste fatto se avesse subito il diniego alla concessione per il nostro stesso tempo? Dietro di voi ci sono delle famiglie e allora sarebbe importante che voi pensaste che anche dietro di noi ve ne sono. Noi non ci fermeremo, fin quando non avremo giustizia. Lo devo a mio padre, al nostro nome, alla nostra azienda, ai nostri ragazzi e a tutti coloro che credono nella giustizia. E se sarà necessario li porterò sino al cospetto della Corte Europea, accompagnati dai loro compagni di merende. Al momento stiamo solo attendendo il giudizio del Tar per sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica in capo ad abusi d'ufficio, omissioni, corruzione e falso in atto pubblico. Conclude così Azzurranieri, non ci interessano i soldi, non pensiamo neanche lontanamente al risarcimento, le amarezze e le lotte non sono rimborsabili o risarcibili. Noi vogliamo solo giustizia. Orto Botanico Santicelli ha soverato dibattito fra amministratori, cittadini e associazioni. Dibattito molto sentito e partecipato, quello di ieri pomeriggio, il tema, l'ambiente, programmato con largo anticipo da cittadinanza attiva, si è andato ad intersecare con un evento di stringente attualità a Soverato i lavori all'Orto Botanico Santicelli. Presenti le amministrazioni comunali di Soverato e Satriano, con cui le tante associazioni presenti e i tanti cittadini intervenuti hanno potuto interloquire. I cittadini sotto ogni forma rappresentati hanno mostrato un'attenzione particolare all'ambiente e hanno palesato l'esigenza di voler tutelare il verde pubblico, nonché di essere chiamati a partecipare alle decisioni di pubblico interesse. Dall'Orto Botanico Santicelli all'area verde di Via Trento e Trieste, retrostante la stazione ferroviaria, dalla foce del fiume Ancinale alla Pineta Sud in zona stadio fino al lungomare, dalla villa comunale all'area denominata Scarpina, sono state chieste incalzanti delucidazioni dall'amministrazione comunale sull'indirizzo che si ha intenzione di portare avanti per oggi e per il futuro, per il nostro territorio. L'ex sindaco di Soverato, Gianni Calabretta, ha ricordato che la città era, ai suoi tempi, un caso più unico che è raro che ben 24 metri quadri di verde per ogni abitante ed oggi viene da domandarsi se sia ancora così. Considerato il vivo interesse sull'ambiente che si è palesato in dibattito cittadinanza attiva, alla presenza del segretario regionale ha proposto alle amministrazioni di redigere un regolamento delle aree verdi poiché allo stato attuale non viene nessun documento ed eccezione di linee guida regionali che regoli l'uso e l'utilizzo del verde comunale. Inoltre sulla questione orto botanico cittadinanza attiva ha chiesto al sindaco subito dopo le festività pasquali una conferenza pubblica cittadina indetta dall'amministrazione comunale in cui vengono spiegati e comunicati alla cittadinanza i criteri e le modalità di assegnazione dei lavori e in cui si è liciti, dettagliatamente e nel concreto cosa verrà realizzato e come. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Crisi idrica nel crotonese e imprenditori agricoli restituiscono partite IVA. Una forte delegazione di agricoltori ha consegnato alla sindaca di Isola Caporizzuto la partita IVA delle rispettive aziende e ha annunciato la chiusura delle attività a causa dell'emergenza idrica in quanto in queste condizioni non è possibile andare avanti una protesta i cui contenuti sono stati segnalati dalla sindaca Maria Grazia Wittemberga ad una serie di autorità tra le quali il commissario del Dipartimento Agricoltura della Comunità Europea il ministro dell'Agricoltura, il commissario del Governo per la Siccità, il prefetto di Crotone e il presidente della regione Calabria. Gli agricoltori, scrive la sindaca, hanno chiesto all'amministrazione di farsi portavoce delle difficoltà delle loro aziende, ormai al collasso. Al fine di salvare le colture e centinaia di posti di lavoro chiedono a gran voce le erogazioni dell'acqua fino alla riapertura del lago di Sant'Anna. A dimostrazione di ciò sono state anche protocollate foto che dimostrano l'ammaloramento dei prodotti e le pecore all'interno dei campi che si nutrono del pregiato finocchio IGP e di altre eccellenze. Nel corso dell'incontro è stata comunicata l'intenzione di uno sciopera d'oltranza sulla Statale 106, qualora la situazione non dovesse migliorare. L'assessore comunale all'agricoltura Gaetano Muto afferma che l'amministrazione sarà vicina agli agricoltori fino a quando non si uscirà da questa crisi. La sindaca ha manifestato vicinanza agli agricoltori, alle loro famiglie, alle aziende consapevole che il fallimento di un comparto così importante per il paese rischierebbe di mettere in ginocchio l'economia di tutto il territorio con danni incalcolabili. Pertanto, conclude la nota, si è fatto carico di chiedere dei tavoli tecnici ai vari livelli. Consorzio di Bonifica e della Calabria Giovinazzo impegno massimo per assicurare l'acqua agli agricoltori. Una recente comunicazione ufficiale dell'osservatorio distrettuale per gli utilizzi idrici istituto presso l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale inviata al Consorzio e ad altri enti interessati coinvolti nella gestione della risorsa idrica informa il Consorzio di Bonifica della Calabria certifica che nei prossimi 3-6 mesi si possono verificare condizioni di criticità di disponibilità della risorsa idrica. Il Consorzio di Bonifica della Calabria è impegnato sia in un'azione preventiva che in un monitoraggio costante nei vari distretti irrigui per poter garantire agli agricoltori consorziati la disponibilità per l'irrigazione delle colture. Certamente, comunica il commissario straordinario del Consorzio, Giancomo Giovinazzo, la situazione non è facile e per questo abbiamo predisposto un'informativa mirata che sarà costante agli agricoltori e ai comuni rientranti nel perimetro consortile proprio per ottimizzare ed assicurare l'acqua per l'irrigazione delle colture agricole. La scarsa piovosità che si riscontrerà e l'aumento delle temperature medie, aggiunge, viene affrontata con la massima determinazione in collaborazione con gli agricoltori e con le società che gestiscono i laghi silani. Sono, prosegue Giovinazzo, in costante contatto con i territori che in questo momento stanno avendo problemi per l'irrigazione delle colture e certamente sarà fatto tutto il possibile per gestire e assicurare in maniera ottimale la necessità idrica. Il Consorzio con i responsabili tecnici dei distretti irrigui sta procedendo, assicura il commissario, ad individuare gli areali e le colture non stagionali per le quali risulti necessaria l'irrigazione al solo file di mantenimento degli impianti esistenti. L'impegno prioritario, conclude, è la tutela del reddito delle imprese agricole seguendo anche le indicazioni dell'osservatorio distrettuale per gli utilizzi idrici che sono determinanti nel consentire all'agricoltura regionale di affrontare le torri de temperature estive. Serra San Bruno era accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto assolto. Il Tribunale di Vibo Valencia ha assolto un 56enne di Serra San Bruno il quale, ad avviso degli inquirenti, al fine di ottenere i benefici del reddito di cittadinanza avrebbe omesso di comunicare informazioni dovute che ne avrebbero comportato la mancata erogazione. Era stato inoltre disposto il sequestro preventivo alla somma di 9.000 euro asserita come indebitamente percepita. Le contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica di Vibo Valencia erano relative a fatti risalenti all'aprile 2019 quando la Guardia di Finanza di Vibo Valencia, nel corso di un'attività investigativa finalizzata a contrastare eventuali condotte illecite in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza aveva contestato all'uomo l'omessa dichiarazione di termini redditi e se dichiarati non gli avrebbero consentito di conseguire il beneficio invece ottenuto. La difesa rappresentata dall'avvocato Antonio Gambino del foro di Vibo Valencia ha dimostrato al giudice che invece l'attività posta in essere del suo assistito era stata improntata sulla massima correttezza e nel rispetto delle procedure indicata dalla legge per l'ottenimento dei benefici del reddito di cittadinanza e che non vi era stata, nella maniera alcuna, omessa dichiarazione. Il Tribunale di Vibo Valencia, condividendo le argomentazioni della difesa, ha assolto l'imputato con formula ampia, disponendo altresì il dissequestro e la restituzione delle somme in precedenza sequestrate. Assegnata ricercatrice AIRC, prima borsa di studio istituita in memoria di Iole Santelli è stata assegnata a una ricercatrice AIRC la prima borsa di studio istituita in memoria di Iole Santelli la prima donna presidente della regione Calabria, morta nell'ottobre del 2020 per un cancro. La borsa di studio è stata istituita dall'associazione Iole Santelli e dalla fondazione AIRC ad aggiudicarsela Giulia Veltrico, sentina di nascita che svolge il suo progetto di ricerca a Padova nella fondazione istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Alla cerimonia è intervenuto il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto che ha ricordato il suo impegno politico in Parlamento con Iole Santelli e l'importanza di attività come quella di oggi queste. Sono orgoglioso, ha detto, che il Consiglio abbia approvato questa iniziativa perché portare avanti la memoria di Iole è importante. Serve a far diventare le azioni un valore nel tempo e noi, senza le sue sorelle e la loro associazione che porta il nome di Iole non saremmo mai riusciti a fare tutto questo. L'invito da parte di tutti a Giulia Veltri è stato quello di tornare in Calabria a portare la sua competenza. Visita a Mattarella, il gruppo del PD, segnale di grande attenzione da parte del Presidente della Repubblica. Il Sud e la Calabria hanno bisogno più che mai del sostegno dello Stato. È un segnale di grande attenzione per la Calabria quello che vuole dare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che tornerà a visitare la nostra terra al fine del mese di aprile. Ad affermarlo è il capogruppo del PD a Palazzo Campanella che evidenzia che sia fondamentale per la Calabria tornare al centro dell'agenda della politica nazionale. Oggi il Sud della Calabria prosegue Bevacqua a causa delle politiche nazionali sono relegate a un ruolo marginale. Una marginalità che diventerà ancora di più catastrofica se dovesse essere approvato il progetto di autonomia differenziata che ha suscitato perfino le proteste della Conferenza Episcopale in ordine ai rischi per l'unità del Paese. In un momento come questo, si legge ancora nella nota diffusa dal gruppo democratico, acquista ancora più importanza la visita del Presidente della Repubblica garante dell'unità d'Italia e del rispetto della Costituzione che rischia di finire sotto attacco anche con la riforma del Premierato. A Sergio Mattarella chiediamo attenzione per il Sud e per la Calabria che non possono permettersi di restare indietro e hanno bisogno del massimo sostegno dello Stato per garantire diritti fondamentali come quello alla salute che invece rimane ancora un miraggio come dimostrano gli ultimi dati sulla migrazione sanitaria. La Calabria, i calabresi e il tessuto produttivo regionale hanno assoluto bisogno di testimonianze come quella di oggi annunciata dal Presidente Mattarella. Danno forza e coraggio anche ad ognuno di noi che chiamato a ruoli di responsabilità sa di poter contare su chi tutela l'unità del Paese e a cuore le grandi potenzialità presenti sul nostro territorio. Don Roberto Corapi in visita al carcere di Catanzaro Settimana scorsa Don Roberto Corapi direttore dell'Ufficio per la Pastorale Universitaria e cappellano dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro si è recato al carcere di Catanzaro per consegnare il devoluto della raccolta benefica UMG di Pasqua a favore dei detenuti in stato di indigenza. La scelta non è stata casuale in quanto tra i tanti luoghi che mettono insieme Povertà e Cura è stato individuato questo in prossimità delle feste vasquali con le testimonianze drammatiche che si raccolgono all'interno di questa realtà ma anche i segni di speranza. Con la direttrice Patrizia Delfino il cappellano Don Giorgio Pilò e altre autorità operative presso la Casa Circondariale Ugo Caridi è stato vissuto un momento di fraternità e di riflessione. tante le proposte programmate e messe su carta per contribuire alla funzione rieducativa e di risocializzazione dei detenuti a partire da quelli iscritti all'Università Magna Grecia di Catanzaro che potranno contare anche sul cappellano UMG in qualità di guida spirituale dei detenuti studenti. Con entusiasmo è stata raccolta la proposta della direttrice Delfino di invitare Don Roberto Corapi alle sedute di laurea che si svolgeranno all'interno della Casa Circondariale e non solo. In applicazione dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario l'istituto si avvarrà di Don Corapi per lo svolgimento di diverse attività riconosciuta una funzione positiva della sua presenza per la rieducazione dei condannati e degli internati affermata l'importanza per il rinserimento sociale di uno scambio e di un contatto tra la comunità carceraria e certe personalità del luogo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!